Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene e anche oggi siamo in palestra con un video che è tendenzialmente una live. Ultimamente sto dando un sacco a questo format per vari motivi, primo fra tutti che non ho tempo per mettermi a far video un po' più montati, un po' più strutturati, però ho visto che questi video così tutti di un getto non vi dispiacciono, quindi fondamentale come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, attiva la penna e metti a piacere il video. Noi ci spostiamo, venga qua a cavalletto umano, perché andiamo a vedere un po' le run. Abbiamo Anna che sta facendo le sue run di battle, anche l'altro video era sulle live, tra molti virgolette, era sulle battle perché stiamo facendo queste gare qui, quindi c'è una gara tra due settimane, quindi vediamo. E vediamo anche Anna e la rifatta perché è un po' un pollo, vero Anna? Concentrazione? Con me che sono molto bravo a sconcentrare. Una cosa ibrida Matilde, sono a live e no. Brava! Eh brava, brava. Con me che gli do fastidio è stata molto brava, devi riguardare lei però eh, io faccio il video commento dopo. Il cavalletto non è molto efficiente, non vorrei sapere come ha fatto i video il cavalletto eh, però. Ed ecco esatto, ok, molto bene. Per chi non sapesse cos'è una, cos'è praticamente una battle, ve lo rispiego brevemente qua, però aspettate un attimo, andiamo sul grand'angolo e voilà, eccoci qua, ok, molto meglio. Ora questo grand'angolo è più carino. Cos'è la battle? La battle è una gara molto interessante, molto carina, che praticamente abbiamo queste run da 30 secondi in cui gli altri si sfidano 4, ok? 4, 3, fanno due run da 30 secondi in cui devono fare passi essenzialmente più difficili, più fighi e più vari. L'ho proprio spiegata in maniera super male mentre il Rebbe stava cadendo con stile, poco stile, però dai, un mi piace, un like, un commento, ma soprattutto un'iscrizione ci sta, dai, ok? Vedi qua il Rebbe, venga qua, che noto importante, perché dovete sapere che il Rebbe vuole fare una dedica importante, io bene? No. Come no? Samuele, fai una radio, vieni qua, ok? Se è fidanzata, ora è giusto che cosa, dobbiamo prendere divertente il pubblico, poi non mi divertirei mai a prendere in giro Rebbe, io bene Rebbe? Attenzione, attenzione, con persamo, persamo, persamo. Molto bene, ok, ottimo. Ora, detto questo, andiamo invece a vedere e a studiare un attimo un po' come è stato in polestra. Questo, per chi non lo conosce, è Tavarnelle, non ha visto un pelo, eh, così e così, ok, in cui andiamo a fare dei trick abbastanza carini e in un campo gara non regolamentare, ma dai, non ci lamentiamo. Ok, Cione, da un attimo su Sere, che invece sta facendo delle rotazioni, ok, all'indietro, quindi ha fatto 7 indietro e prova a collegarci le chicche, anche decentemente, anche. Mentre Rebbe, oh, Rebbe, grande! Batti il 5, bello, brava, ok. Ok, molto bene, dai Sere, anche se ancora, vediamo un altro. Vedete, vediamo, ok, ecco qua, le rotazioni in G7, molto brutte. Vediamo, 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 vediamo. Con una bella caduta. Ok, molto bene. Ok, pronta Sere? Ok, potete sapere se vi c'è un attimo di momento con il mogico. Qui abbiamo Marti, che andava a fare le rotazioni indietro brutte, eh. Madonna, erano bocca le pelle, vero, indietro Marti? Eh, orribili. Dai, 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 Sere. Che cosa orribile. Vediamo, le altre invece stanno parlando. Vediamo, andiamo a sbirciare, andiamo a sbirciare, ecco, è lì. Guarda lì. Guarda come stanno non facendo niente. Mannaggia a loro. Guarda là. La concentrazione dell'atlete. Vedete? Azzumiamo ancora, vediamo, lo zoom. Ecco lì. C'è Camilla che è lì, che sta pregando. Mentre Marta sta portando una Sere in orribile. Mannaggia a loro. Ora qui si sta sgranando. Ebbè, eravamo distanti comunque, guarda qua. Ok, molto bene. Allora, a parte gli scherzi, sto provando un attimo anche a utilizzare bene questo stabilizzatore con questi effetti. Oltre al fatto che ho veramente poco tempo in questo periodo qua. Adesso proviamo a fare due correzioni. Rebe, torno a fare un po' di punta. Ok? Non stare sempre a tre. Ora sappiamo che dobbiamo stare questi fidanzatini con Samu. Però, cioè, guarda qua, guarda come è diventata rossa. E guarda, guarda, è come questa bottiglietta qua, eh. Vabbè, dai, li vogliamo bene lo stesso. Un po' io sono molto simpatico, sono simpatico. Metti un commento se sono simpatico, Serena. No. Come non sono simpatico? Non c'è più religione qua. Ok, molto bene. Religione. No, infatti. Religione. E poi non posso fare tagli in questo tipo di video qua, quindi anche abbastanza cringe. Religione. E così vi faccio vedere come sono i miei allenamenti in maniera di seri. Ma non posso fare tagli. Non posso fare tagli? È tutto dritto. Sì, l'ho visto pure con l'altro video. Eh, non posso farli. Sì, sì. Perché questo lo monto e lo metto online. Sì, e lo tagli. Non lo posso tagliare. Sì, lo puoi. No, perché dovrei mettere su un programma, invece questo deve essere così, crude. È la realtà, non c'è tagli. È come se fosse una live, ma di qualità migliore. Ora, molto bene. Conciutiamoci su TV un attimo. Con tutti gli esercizi. Cioè, vai a essere, facciamo una combo di punta. Non ho rotato io perché sennò, insomma, diventa un po' antipatica la cosa. E poi forse proviamo a provare, e vediamo quante volte cade, a fare punta corvi incrociato. Contento di questa scelta, vero? Molto bene. Intanto combo. Preparò anche del rebe, dai. Combo al volo. Dai, fane una così, dai. Back, front, cheek. No, no, indietro. Spero non la fai così in battle. Non la fai così in battle, non la fai così in battle. Eh? Sì, sì. Non la fai così in battle. Eh, meno male, era quella sicura perché sennò è un macello. Non la fai così in battle. No, infatti, c'è un macello. Eh? Vai, vai, vai. No, no, è così, è bella, eh. No, non lo farò sicuramente, guarda. Cioè, il rebe va sul sicuro? Meno male, era sul sicuro. Cioè, ma, sapete vero che c'è la gara fra, così per ricordarvi, eh? Due settimane? Lo taglierò sicuramente. Se vedete nei commenti qui sotto, se non lo taglio o no. Lo rifacciamo da capo, vai, dai. Facciamo, teniamo questa. Teniamo questa, questa è quella buona, eh. Dai, questa era decente. Dai, se ne chiederebbe ora. Abbiamo fatto il video simpatico. Adesso, dai, per Samu. Concentrazione. Brava, rebe. Tieni forte sta gamba. Gambe e braccia insieme, rebe. Beccato, però era decente, dai, questa va. Ok, invece, vediamo di qua. Ok, le ragazze stanno parlando con Alessia. Ok. Per andare a gestire la Rural Battle, ok, vedete? Ci abbiamo Anna. Tu hai una portazione indietro, ora, Serebri. Dai, dai, veloce. Dai, Anna, tieni bene la posizione. Tieni forte. Viper. Grintoso questo Viper. Ok. Molto, molto bene. Ok. Cavalletto. Saluto. Et voilà. Con questa uscita carina. Molto bene, ragazzi. Io spero che questo video, se mi là, vi sia piaciuto. Mi raccomando, fammi sapere nei commenti Come ti sembra nei miei allenamenti Che sono realmente come vi ho fatto vedere in questo video. Vero, Rebe? Puoi confermare? Sono abbastanza scemo così anche in natura? Sì. Meno male. Che venga qua, venga qua, Serena. Sì. Eh, certo, se no, chiedi, era brutto che cosa. Io sono abbastanza deficiente. Dici, è brutto a dire. Vabbè, non posso tagliare, quindi. Sono abbastanza sciocchino anche in natura. Fai riflessione di fissi. No, sei molto intelligente. Vero? Come sono? Devo mettere un po' di sale. Perché sale, vedi? Perché è sciocco. Perché sale. C'era una volta carina su con le vacche. Sì, però si arrabbia un po' di una troppo spesa a volte. Eh, sia così. No, comunque fatevi iscrivervi, se ne piacciono male. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Torniamo prima, ci vediamo al video e ciao!